Ah, Connor. Che sollievo. Siete qui? Eh, lasciate che... Vi presenti William Doce e Robert Newman. Nella lettera parlavate di John Pitkin. Già. Si prepara ad attaccare l'Eccan. Dove Adams e Hancock si sono rifugiati. Fatto questo, marscerà su Concordo. Per distruggere le nostre armi e provviste. Dovete aiutarci. Ditemi dove posso trovarlo e sistemerò io la faccenda. Ha decine se non centinaia di soldati al suo comando, eh? Non potete affrontarlo da solo. Ma non temete. Non sarà necessario. Abbiamo un'intera armata con noi, in attesa dell'ordine di prendere le armi. Allora dovreste allertarla. Certo. Voi e io passeremo il fiume Charles e avviseremo i ragazzi. William, tu dovrai passare dall'interno e fare lo stesso. Robert, tu raggiungi Christchurch. Dai il segnale. Due lanterne, se il nemico viene dal mare. Non perdiamo tempo, amico. Ci sono vite in gioco. Forza! Hanno lasciato soltanto un cavallo. Dovremo montare in due. Su, forza! Prendete le redini, vi guido io. Presto, Connor! Salite in sella! Vi guiderò da quelli che dobbiamo avvisare. Seguite le indicazioni e faremo in un lampo. Continuate così! Schupe rosse? Che cosa ci fanno qui? Sì, è proprio questa la strada giusta. Attenzione, Connor. Non dobbiamo fargli dare l'allarme. Dobbiamo smontare ora. Veloci e silenziosi. Sì, è proprio questa la strada giusta. ci siamo questo è il posto giusto informate tutti quanti che i soldati marciano su Lexington e Concorde gli inglesi arrivano montate in sella amico c'è altra gente da avvisare sinistra sì è proprio questa la strada giusta di qua Connor di qua Connor ottimo è la strada giusta continuate così sinistra a sinistra avete sentito se fossero giuberose attento a sinistra qui a sinistra qui e la direzione giusta sinistra a sinistra Connor ci siamo ci siamo meglio continuare a piedi attenzione alle giubbe rosse ci siamo questo è il posto giusto avvisate tutti i soldati i soldati i soldati stanno arrivando subito a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra ci siamo ci siamo meglio continuare a piedi ci siamo questo è il posto giusto i soldati i soldati arrivano e Connor ce la siamo vista davvero brutta cerchiamo di evitare altre brutte sorprese presto dobbiamo le darceli di dosso dobbiamo seminarli ce la siamo ce la siamo vista davvero brutta cerchiamo di evitare altre brutte sorprese di qua Connor si ci siamo è per di qua ci siamo meglio continuare a piedi ci siamo questo è il posto giusto ma dove diavolo è? siete certi che il posto sia questo? certo che sì Prescott? sera signori sentite i soldati stanno arrivando radunate gli uomini e indossate i pantaloni sui bitte sui bitte benvenuto Paul Connor lieto di vederli devi fuggire arrivano le giubbe rosse già così dice William che facciano la loro indagine non troveranno nulla tu non capisci Pitcairn ha intenzione di ucciderti temo sia vero allora suppongo che non ci resti che andare e voi tre? Dose e io andremo fino a Concorde Connor restate qui aiutate il nostro John Parker a tenere la città così potremo allertare tutti a tenere la città